Strage stradale ieri nel tardo pomeriggio, tre persone sono morte e una quarta è rimasta ferita gravemente dopo un incidente avvenuto nel Tarantino sulla strada statale 7 nel tratto che collega Castellanete, la terza all'altezza dello svincolo del comune di La Terza nel versante occidentale della provincia di Taranto. Il gravissimo incidente ha visto coinvolti un'auto e un furgone che si sono scontrati violentemente, due donne sono morte praticamente sul colpo mentre un uomo è deceduto qualche istante dopo l'arrivo dei soccorsi, il guidatore del furgone sarebbe invece ferito gravemente ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente. Grazie